E eccoci qui con un nuovo video ragazzi, io sono Kree e ora siamo tornati su iFootball2024 per andare ad analizzare la nuova season, la season 6 Dovrebbero aver aggiunto un po' di cose o un po' di regali di cose da riscattare, eccoli qui, Brazilian Clubs anche Un po' di monete, programmabilità per 10, buoni, buoni davvero Allora, eccoli qua, eccoli qua, abbiamo riscattato tutto, abbiamo anche un contratto da aprire Dovrebbe essere la season Brasile, la season Brasile perché, eccolo qui infatti, ci sono gli obiettivi della campionato brasiliano Quindi eventi riguardanti quello e tutte cazzate varie Adesso andiamo a vederci i pacchetti che hanno messo perché in teoria dovrebbero... ok, vedo subito un guardiolino così Lo vediamo dopo, lo vediamo dopo, allora andiamo sui pacchetti perché abbiamo, abbiamo Allora, questi qui ancora non sono scaduti, però hanno messo, eccoli qui, in realtà anche J League questi qua sono nuovi, eh Sì, sì, sono tutti nuovi praticamente, Brazilian Clubs... ah, vabbè, vabbè, è vero Cioè, avevo ancora in mente il pacchetto quello lì del Brasile che avevano regalato, niente Questi qua sono utili negli eventi, ragazzi, probabilmente negli eventi sono davvero davvero utili Non stiamo neanche a vederci chi è Va bene, 4 stelle, difensore centrale, probabilmente lo userò a livello 1 Allora, abbiamo detto, abbiamo detto, questo è un pacchetto nuovo, vabbè, non ve lo sto ad analizzare Però, però, vorrei vedere, sono curioso di vedere questi, questi contratti mirati Il pacchetto contratti mirati, eccolo qui Ok, ne ho uno solo da poter prendere Allora, c'è Minamino, che è un 4 stelle, TRQ, e vabbè Possiamo evitare, stessa cosa lui, che non so chi sia, non l'ho mai sentito, non so neanche come nominarlo Però assurdo, assurdo, cioè, guardate le posizioni È una cosa assurda, è una cosa fuori di testa È una cosa fuori di testa Cioè, vi fa TD, CLD, EDA, ESA, CLS, CC, TRQ, SP, punta Praticamente, praticamente, se avesse fatto mediano di CTS Avrebbe fatto ogni posizione del gioco Gli mancano 3 posizioni per completare il gioco del calcio Secondo Konami, eh, secondo Konami Poi magari questo qui, nella realtà, fa solo la prima punta, fa solo l'EDA Ma Konami, Konami, non so se guarda le partite, ancora non l'ho capito Poi guardi le abilità e dici, ok, è una merdaccia clamorosa E va bene, va bene, possiamo andare avanti Cioè, Darmian, Darmian, che in realtà L'ho già guardato maxato E ha anche qualcosa in meno rispetto a quello che ho già Che quello che ho già è quello del pack inter Quindi sì, è shoppato Però, cioè, è uscito 4 mesi fa quel pack Questo è uscito nuovo, sto Darmian è più scarso dell'altro Vabbè, carina la carta Comunque, magari un pensierino ce lo faccio Però 5 stelle, ha poche abilità Ne ho già uno più forte Non ha molto senso Non ha molto senso Poi abbiamo Oliviero lo Sparviero Oliviero Giroux Che a me non serve a niente Avendo quello big time Ho anche quello portiere, oltretutto Anche avevano fatto pot Quando erano andati in porta E niente L'hanno fatto anche per chi non ha sculato quel pot Adesso tutti potranno avere un Giroux portiere Che in realtà non è che serva chissà quanto Anzi, però diciamo che è carino È carino da avere Tutto qui, tutto qui Non credo lo prenderò perché Ho già sia quello portiere che quello big time Quindi non penso proprio di farci neanche un pensierino Poi abbiamo Joe Ellington Che in realtà è carino Anche lui Anche lui ha posizione messo bene Messo davvero davvero bene Vi sposto la webcam almeno le vedete È anche abbastanza completo CC ogni presente Ci sta in realtà Ci sta Non è nulla di eccezionale Non è nulla di eccezionale Però ci potrebbe stare Soprattutto per degli eventi O delle cose simili Poi Lee Kang In Del PSG Anche lui fa abbastanza Destra, sinistra SP, TRQ Un po' di tutto Anche lui è abbastanza completo Pecca un po' sulla velocità Cioè Molta accelerazione Poca velocità però Buon controllo corpo Buon passaggio alto Dribbling 25 livelli Non sono tanti Abilità Ma in realtà non mi sembrano neanche così malaccio Non è male Non è male Regista creativo Non è male Cos'è? Incrollabile? Incrollabile Poi abbiamo Canselo Gioco Canselo Terzino destro Vi ho fatto i DTS Questa è già una roba buona E CLD Basta Molto veloce Bei passaggi alti Bei passaggi rasoterra Bei piedi Semplicemente tiro a giro Parte da 86 E fa 26 livelli Parte da 86 Cioè paradossalmente Arriva a 99 Il tiro a giro Cioè Si Potrebbe tranquillamente Arrivarci Abilità Carine Neanche tante Cioè È pieno Non è che è a metà Come Come questo signorino qui Che ne ha tre Cioè nel senso Siamo su un altro livello di giocatore Già E poi abbiamo Alaba David Alaba Un classico Alaba Sviluppo DC Che vi fa Tanti tanti ruoli Sempre buono Alaba Ragazzi Sempre sempre buono Vi fa DC Med CC E tutta la fascia sinistra Tranne vabbè Tranne l'ESA Vi fa quasi anche quello Però veramente veramente Carino David Alaba Completo Soprattutto Contando che è un difensore Contate che è un difensore E c'ho anche dei piedi buoni C'ho C'ho veramente qualsiasi cosa ragazzi Tanta tanta roba Per essere Per essere un difensore Tante abilità Ecco Diciamo che sono più abilità Da centrocampista Che da Che da difensore Perché non ha muro Non ha disimpegno acrobatico Vabbè Ma quello si rimedia Comunque tante abilità Ce le ha E le si può aggiungere tranquillamente È un bel difensore È un bel difensore Secondo me è uno dei migliori Qui dentro Secondo me è uno dei migliori Alaba Se non il migliore Insieme a Cancelo Adesso vabbè Non prendiamo nessuno Che stavamo solo analizzando Andiamo avanti Questi qui li abbiamo già visti E va bene Abbiamo il pot Questi qua Vabbè Vi faccio solo vedere Chi sono Uno è Zico E va bene E l'altro è Takahara Non so chi sia Sinceramente Non mi sembrano neanche Ehm Ah ok Beh 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 Non mi aspettavo Delle statistiche del genere Ragazzi Guarda che piedini Oddio Ho detto così è brutto Però nel senso Che piedi educati Calci da fermo 99 Tiro giro 97 Tanti tanti passaggi È lento È lento Però ragazzi Non mi sembra male Non mi sembra per nulla male Tante tante abilità È carino È carino Poi c'è Adli Tra le linee Anche lui Non è malissimo A statistiche È abbastanza completo Abilità Ce le ha Ovviamente Ce li guardiamo Molto velocemente E poi ce li guarderemo Meglio quando andrò Ad aprire proprio Il giro gratis Che li sarò più interessato Riserva di lusso Per il Matteo Politano Buona l'accelerazione C'ha un po' di tutto Ma non spicca in nulla Davvero Non spicca in nulla Poi c'è Mancini Mancini con colpo di 685 Beh non è malissimo Sì Diciamo che è Proprio lento lento Però Non è male Non è male Abilità giocatore Ne ha poche Ma sono quelle che servono C'ha muro Dominio pale alte Colpo di testa Intercettazione Marcatore Scivolata Ecco quelle che servono Ce le ha Non ce ne ha tante Quello sì Ne potrebbe avere avute Un po' di più Poi c'è Avers Attaccante di rientro Attaccante di rientro Avers Prima punta 94 Non spicca proprio in niente Non spicca proprio in niente Non mi fa impazzire questo tipo di carta Ma alla fine c'ha tutto Non spicca in niente Ma alla fine c'ha tutto Quindi c'è sempre C'è il pro e il contro Dipende da come la si vuole vedere Fa seconda punta TRQ E punta Prima punta Poi c'è Lewis Non so chi sia Sinceramente Non so chi sia Mediano Non ha neanche il game face Anche lui Non spicca in nulla Ma è completo Vediamo le abilità Non dovrebbe avere C'è neanche chissà quante Non è neanche pieno E poi abbiamo Nico Williams Che fa 100 in squadra Con tanta tanta velocità Tanto dribbling E basta Perché è questo Basta Tanta velocità Tanto dribbling E basta E poi abbiamo Van de Ven Che in realtà Dovrebbe essere Il migliore del pacchetto Da quel che ho visto Dovrebbe essere Il migliore del pacchetto Nonostante Non sia pieno di abilità Anche lui Come Mancini Ha le abilità giuste Quelle che servono Vi fa anche il terzino sinistro Ma la cosa La cosa Che fa spaventare Ragazzi È che poi in squadra Allora Fa 90 in tutte le statistiche difensive Cioè supera 90 in tutte le statistiche difensive E c'ha 91 di velocità E ragazzi Un difensore centrale Incontrista Con 91 di velocità Vi sfido a trovarmelo Ecco perché Dovrebbe essere Il migliore del pacchetto A mani basse E vabbè Adesso non ci facciamo niente Qua Ci andiamo a vedere Questi ultimi Qua dentro Non stare neanche ad analizzarli Questi altri Sinceramente Magari L'unico buono Potrebbe essere Saliba Sviluppo Ecco Anche lui potrebbe arrivare A 90 di velocità Eccolo L'abbiamo appena trovato L'abbiamo appena trovato Però in un pacchetto da 150 C'ha quello in un pot Vabbè già maxato Non devi sprecarci ESP Questo sì Gli puoi aggiungere abilità Quindi da una parte è meglio È sicuramente meglio Di Van de Ven Però Però Devi trovare Lui In 150 giocatori Che ci sono dentro Cioè L'avvio più semplice È trovare Van de Ven Se vi serve un difensore Ecco Poi c'è Siemen Classico Classico portiere Difensivo Statistiche Non è malissimo Non è tra i migliori Portieri del gioco Però non è tra i migliori Portieri del gioco Non è male C'è solo si scula Tanta roba Sempre B Incrollabile Non so se è incrollabile O forma normale Vediamo Forma incrollabile Quindi Benvenga Poi abbiamo Alexander Arnold Terzino offensivo Vi fa anche il CLD E secondo me È più da giocare i CLD È più da giocare i CLD E ragazzi Le statistiche Parlano chiaro Le abilità pure È tanta tanta roba Parte altissimo Di tante cose Passaggio alto Passaggio verso terra Tiro a giro Calci da fermo Velocità accelerazione E resistenza Cioè Supera i 90 In tante tante abilità Scusate In tante tante statistiche Se lo maxate per bene 33 livelli È carino Veramente Veramente tanta roba Poi abbiamo Steven Gerrard Onnipresente Mediano Ecco lui il classico Alla Matteus Se vogliamo metterla Alla Matteus Col booster Anche lui C'ha tutto C'ha tutto Cioè in squadra Avrà qualsiasi statistica Sopra i 70 Cioè neanche una statistica rossa A parte quelle del portiere Che non contano Quindi vabbè Classico Classico onnipresente Che vi fa tutto Vi fa veramente tutto Carino Carino Non mi dispiacerebbe Scularlo Con questa singola Che andrò a fare In questo momento Mentre vi saluto Quindi Niente Vabbè ragazzi Sta andando male Ultimamente sta andando male Però ci sta Ho sculato Veramente tanto Ho sculato veramente tanto Adesso per un po' Che poi è un 4 stelle Poteva andare anche peggio Fatemi dare un attimo Ah ecco cosa mi stavo dimenticando Azzarola Vi stavo per salutare Senza guardare gli allenatori Hanno aggiunto Allora Zico c'era già Messi qua c'era già Hanno aggiunto Xabi Alonso E Guardiola 500 monete per Per ognuno di questi due Xabi Alonso È di quest'anno E se Dov'è che è Fatemi vedere Xabi Alonso Per favore Eccolo qua Un 88 di contropiede veloce Più uno di accelerazione Come booster Tanta 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 Roba Quindi Per chi usa contropiede Stessa co Oh minchia Lo stavo shoppando Stessa cosa per Guardiola Ma al contempo Da più uno di possesso stretto Come statistica E 88 di possesso palla Non di contropiede Quindi In sostanza Konami sta dicendo O usate contropiede Che è forse il più utilizzato Insieme a contraattacco O usate possesso palla Perché semplicemente Si chiama possesso palla Anche se lo usano in pochi O se usate contraattacco Che poi è il migliore del gioco Attualmente Il migliore del meta Come stile di gioco E attaccate il cazzo In sostanza Konami sta dicendo questo Perché Zico Cosa che era Anche lui possesso palla O contropiede Una delle due Non è che ci sia molto Da star lì ad analizzare Possesso palla Anche lui 83 Quindi una vera merdaccia Clamorosa In confronto a Guardiola nuovo In confronto a Guardiola nuovo E quindi niente In pratica Stanno dicendo Che se ne sbattono il cazzo Di tutti gli stili Che non siano possesso Contropiede Aspetteremo Aspetteremo E quindi ragazzi Penso di avervi detto tutto Ci sono i classici eventi Non ve li sto neanche a vedere Eventi Brasile Tutte quelle cazzate lì E niente Vi saluto Mentre faccio l'ultima singola Io spero che il video Vi sia piaciuto Lasciate like Zerola Mi è inculato Con quei fuochi D'artificio di merda Lasciate like Condividete Iscrivetevi al canale E noi ci rivedremo In un prossimo video Vi ricordo Vi ricordo Che a 3200 iscritti Manca veramente pochissimo C'è il ritorno Del team Pipponi E niente Vi saluto Ciao a tutti